segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te no non sono la novità perché si riagganciano ad un pezzo anche della narrazione del del mio moderno sarà lei cioè noi poco alla volta stiamo cambiando le nostre abitudini alimentari senza più conoscere il senso culturale del cibo ti faccio un esempio quando pensiamo ad una mela noi il più delle volte pensiamo a un prodotto che nasca nasce dall'albero e della natura e del contadino e dell'agricoltore invece ormai quella mela è di chi detiene il brevetto cioè è esattamente un prodotto che deve essere standardizzato questo fa parte di un processo della globalizzazione che tra l'altro rompe il dell'uomo con la natura e rompe anche il patto con con questi agricoltori quali ad un certo punto dicono adesso basta non è la rottura di oggi lo dicevi correttamente è una costante perché l'agricoltore a cicli alterni viene massacrato dalle normative che in europa tanto sono particolarmente severe perché vi ricorderete le famose standardizzazione del calibro delle banane quando c'era l'europa famosa ma se andiamo a parlare con i pescatori pescatori impazziscono dietro normative europee quanti centimetri il pescetto che pesca è veramente un un disastro quindi stanno secondo me non solo rivendicando le loro sacrosante ragioni perché poi la filiera agroalimentare è una filiera che l'anno scorso ha fatto 585 miliardi di di fatturato ma mal distribuiti perché se sei parte della catena bassa della filiera sei escluso e hai soltanto i grandi i grandi carichi insomma ti piace la protesta è una protesta giusta io mi auguro che non sia la solita protesta tipo quella dei forconi che cominciò e poi si disperse un po un po così dico invito le associazioni di categoria col diretti in primis a non sottovalutare questo mal di pancia perché oggi col diretti sta governando la protesta devo ammettere che col diretti con l'europa è durissima e fa bene però deve stare un po attenta alle ragioni di questi piccoli agricoltori questi piccoli coltivatori perché sono quelli che stanno pagando il prezzo più più alto ianina però gli agricoltori hanno poco da lamentarsi perché la pacca è un po' di più